Non è possibile, io risolto ogni tanto, ma non continuosi. Qualcosa non mi torna. Ma dai, ma nemmeno fame ce l'ha questa. Cercherò di tagliare un po' d'acqua forse. Sei salata odesta? Lo so. Una si sta pulendo, l'altra si sta pulendo, l'altra si ripiglia male, dà un goccino di miele, ma non... Cioè è proprio agonizzante. Eccola, eccola. Eccola, forse, ecco, ora succhia. Ora forse un qualcosina si potrebbe riprendere, più la succhia. Però non mi tornano, ogni tanto se ne trova una, ma oggi se ne è trovata una miriade. Cioè qualcosa non mi torna, proprio per niente. Non va bene, non va bene assolutamente. Guarda come succhia, guarda. Amore, lo so. Guarda come succhia là. Se fai uno zoom... Amore, ferma, ferma. Si ripara, sente il calore della mia mano, vedi come si sono calmate. Però stanno bene. Cellini, questa è una cosa... Allora, questa è una... No, ma è inutile, sì. No, no, le faccio vedere. Eccola un'altra. Tre, schiacciata. Vabbè, ma è inutile ne fai vedere. No, le faccio vedere la gravità, perché è grave. Cinque. Poi, ecco, qui altre sei, sette. Mannaggia. Mannaggia, la miseria. Ce ne sono dappertutto. Un'altra qui, schiacciata. Qui ce n'è un'altra schiacciata. Un'altra, una qui, una qui. Ce ne sono centinaia di migliaia. E non ti ho detto che tu le faccia vedere una cosa. No, le faccio vedere la gravità, perché questa è una cosa grave, ragazzi. Anche questo. Un'altra qui. No, è da fare una denuncia. Grazie a tutti. Grazie.